sabato 26 e domenica 27 novembre vi aspetto tutti a roma al planet drum studios andremo a conoscere questo strumento si chiama handpan terremo dei corsi per persone che non hanno mai suonato nessuno strumento l'handpan è perfetto per la meditazione per un uso contemplativo e molto mistico come sound ma può essere applicato anche alla musica moderna insomma è veramente uno strumento molto completo terrò dei corsi anche per persone che invece lo suonano già quindi un corso intermedio avanzato insomma non dovete portare nulla gli strumenti ci pensiamo noi di lombardampal vi aspetto a roma ciao